SOS TCS da Via Turati all'incrocio con Via Carnevale, c'è un problema? Abbiamo chiamato la TCS per far rilevare che in questo momento in Via Carnevale all'incrocio con Via Turati è stato diverto il segnale di stop, è un segnale di pericolo, già abbiamo allertato diverse volte i vigili urbani ma dopo 5 giorni ancora siamo come il primo giorno, quindi è un segnale di pericolo, è un segnale di stop non ci sono i passaggi pedonali per le persone che escono dalla farmacia, che escono dal palazzo Le strisce sono sbiadite? Le strisce sono sbiadite quindi non si vede né la segnaletica orizzontale e tantomeno la segnaletica verticale perché è stata diverta e quindi qui a terra quindi ancora una volta, per cortesia, per evitare incidenti stradali, possono succedere anche quelli grave Invito l'ufficio tecnico, i vigili urbani, la manutenzione, il pronto intervento ecco il pronto intervento di intervenire per eliminare questo pericolo che incombe in Via Filippo Turati all'incrocio con Via Carnevale Grazie a tutti